La loggia vecchia di Palazzo Pretorio a Capodistria sta diventando sempre più uno spazio privilegiato per mostre temporanee all'aperto. Dopo la rassegna del gennaio scorso sulla storia della città, curata dal comune e dal museo regionale, che aveva suscitato critiche da più parti, ora è la volta di un'esposizione della Biblioteca Centrale, difficilmente attaccabile. Biblioteca Iustinopolitana, questo il titolo, è dedicata infatti al tesoro librario di Capodistria, non a caso considerato un tempo l'Atene dell'Istria. Sei pannelli in tutto per altrettanti manoscritti e libri preziosi e rari, scelti da Peter Stocca, responsabile del reparto di Storia Patria e dei beni librari. Innanzitutto è molto importante avere la possibilità di mostrare alla cittadinanza a tutti gli interessati i tesori librari di Capodistria, perché attraverso questi tesori librari la cittadinanza, i visitatori e tutte le persone interessate possono capire il valore della città di Capodistria, il valore storico. Infatti molti di questi codici recono la scritta a Giustinopoli, quindi è stata anche un po' la critica sui 1500 anni della città di Copper Capodistria, in realtà doveva essere chiamata a Giustinopoli, perché è a Giustinopoli che dobbiamo la sua fama e la sua cultura. Il libro più prezioso che viene presentato è un incunabolo dell'umanista Pierpaolo Vergerio il Vecchio del 1475. Unico nel suo genere è il codice greco del teologo bizantino Eutimio Zigabeno, giunto a Capodistria dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca. Quindi è molto importante che questa marea di monaci scappando verso Venezia, creando e istituendo la prima biblioteca pubblica al mondo, si fermano pure a Capodistria e alcuni di loro trovano l'alloggio presso il convento di Sant'Anna Francescano e hanno pagato il vito e l'alloggio con questi quattro codici rendendoci l'unica città del territorio austriaco avente quattro codici greci. Due opere sono legate alla tradizione francescana, la medievale Summa Iuris Canonici del Beato Monaldo da Capodistria pubblicata la prima volta a Lione nel 1516, nonché la regola di San Francesco in latino e italiano contenuta in un manoscritto su pergamena forse del Trecento. Non poteva mancare un esemplare della ricca collezione di antifonari studiati dal maestro Luigi Donorà provenienti da tre conventi capodistriani, fonte di massima importanza ancora tutta da studiare e invece il catastico del monastero benedettino di San Nicolò d'Oltra oggi nel comune di Ancarano. Il monaco padre Nicolò da Firenze trascrisse tutte le carte catastali nella vicedamoneria di Capodistria dal 1072 quando il monastero viene istituito fino al 1569-70, quindi molto importante perché oltre a capire la proprietà del monastero possiamo anche risalire alla toponomastica, alle persone che vivevano di cosa si occupavano.